La mostra è stata organizzata sulla base del fatto che uno dei componenti della Commissione della Biblioteca di Ponte Nossa è un appassionato di fotografie, avevamo saputo che aveva fatto numerose fotografie sui fiori della zona e quindi abbiamo soddisfatto la sua esigenza di poterle poi rendere pubblico a tutta la popolazione di Nossa. Giovanni Messa, come nasce questa passione per la fotografia? Ma come tante altre passioni si comincia piano piano, ci si prende passione e si va avanti. E questa per i fiori? Quando è iniziata? Saranno 4-5 anni fa, sono andato una volta a un amico a fotografare dei fiori, mi sono piaciuti come sono usciti e sono andato avanti. Ma io fotografo fiori, come fotografo tutte le altre cose che mi piacciono, che vedo, che mi piacciono, fotografo, mi piace. Sono un amatore della fotografia, diciamo così. Questi fiori sono stati fotografati qui nelle nostre montagne? Sono tutti delle nostre montagne, da Ponte Nossa fino sotto la Presolana. Non esce dalla Valseriana questi fiori. E che tipi di fiori troviamo? Ma sono i fiori, diciamo, anche un po' i più comuni, solo che visti così, incigantiti, diventano più spettacolari. A me piacciono vederli così. Sono iris, sono i non ti scordare, sono fiori che ci trovano anche dentro i buchi dei muri, come quelli lì, quelli sopra lì. Sono fiori normali che si sono nei prati, nei boschi. Quante foto troviamo esposte qui oggi alla mostra? 40. 40 di quelle che ho io, sono più di 100. Queste sono quelle che io ritengo i migliori. Io ho anche la passione di raccogliere foto vecchie del paese, dei personaggi che riguardano Ponte Nossa. E avevo fatto una mostra su quei personaggi e quei paesaggi di Ponte Nossa. Queste foto sono state scattate con foto digitali? Sì, una reference digitale e poi fatte stampare a un laboratorio. Il titolo della mostra è Io li ho visti così. Come mai questo nome? Perché io non sono un botanico e li ho visti a modo mio. Perché il botanico vuol vedere la foglia, vuol vedere il fusto, vuol vedere... Io vedo solo il fiore ed è così che li vedo io, per quello che ho dato questo titolo. Io li ho visti così. Anzi, io consiglierei al botanico di venirli a vedere, per vederli con gli occhi di un porfano.